Twitch fa schifo ed ecco il perché Oggi, data 20 giugno 2024, c'è stata la partita tra Italia e Spagna Persa, palesemente, 1-0, però sorvoliamo su questo dettaglio E noi grandissimi, i tre broschettieri, abbiamo deciso di streamare la partita in diretta Tutto stava andando per il verso giusto finché all'improvviso la streaming si stoppa Però nessuno di noi in quel momento stava toccando nulla, quindi cos'era successo? Beh, ci è arrivato un'email da parte di Twitch con scritto che il canale di ByAngelTube è stato sospeso per due giorni per violazione di copyright Ora, avevate già visto noi tre che ci scherzavamo sopra su Instagram E mi conoscete, io non sono uno che ha sempre criticato le regole di Twitch Però io sono dell'idea che se qualcuno o qualcosa impone delle regole Allora bisogna far sì che tutti quanti le possano rispettare, nessuno escluso Infatti, dopo la sospensione, ho visto diversi streamer piccoli che facevano i nostri stessi numeri Ci sono stati altri streamer piccoli che addirittura facevano meno numeri rispetto a noi E comunque allora il copyright non è mai arrivato Tra parentesi, chissà da dove avranno preso quelle partite C'era Alex che lo guardava su Digitale Terrestre, io che lo guardavo su RaiPlay Angelo pure lo guardava su RaiPlay Quindi noi i Rai l'abbiamo sempre supportata fin dall'inizio senza fare i furbetti Addirittura questi qua sono gli stessi strumenti che noi abbiamo utilizzato per fare la reaction Ai ultimi due episodi di Sanremo E lì non ci hanno mai dato il copyright Ok che lì il video non l'abbiamo fatto nettamente vedere Però sentivamo all'incirca 30 canzoni a serata Quindi il rischio di essere bannati o anche sospesi c'era Letteralmente vergognoso Ripeto, io non mi sto lamentando del ban Perché se qualcuno infrange una legge di copyright è giusto punirlo Però certe volte l'algoritmo non è che faccia la sua bella figura Sembra che capti le violazioni di copyright così A sentimento Questa storia addirittura va di male in peggio Nel momento in cui noi vediamo persone che su TikTok Reagiscono alle partite per intero condividendo lo schermo della partita E adesso noi siamo in un periodo dove TikTok favorisce molto di più rispetto a Twitch Quindi perché non prendere provvedimenti anche lì? Cercate di immaginare cosa potrebbe succedere quando ci segnaleranno per le reaction agli anime Per concludere in bellezza direi che nel 2024 le persone dovrebbero fare un Dovrebbero fare un benché minimo di distinzione tra freebooting e freeuse Che è quello che utilizziamo noi Il discorso che ho fatto in realtà voleva essere più articolato Nel senso che noi non ci eravamo limitati soltanto a far vedere a schermo la partita Però noi abbiamo fatto anche vedere le nostre webcam a schermo Che tra l'altro coprivano direi più di un quarto dello schermo Quindi era impossibile vedere la partita per intero E di certo noi non stavamo zitti Reagivamo, commentavamo come al nostro solito Quindi stavamo semplicemente rispettando ciò che dice il freeuse Poi un altro fattore a cui ho prestato attenzione soltanto riguardando il video È che diverse società dovrebbero iniziare a mettersi nei panni sia di chi sta lavorando su internet Che del pubblico che guarda questi creators Perché far vedere il loro contenuto a schermo non è un modo per rubargli gli spettatori Che poi rubare cosa? Ci stavano guardando soltanto 8 spettatori Avrebbe avuto molto più senso se avessero bannato Zano Anche solo aver fatto sentire la partita in sottofondo e non farla vedere a schermo Però vabbè Mostrare la partita è semplicemente un modo per dare più interattività alla reaction Soprattutto per dare contesto a ciò che noi stiamo sia vedendo che sentendo Perché onestamente aprire una live e vedere soltanto 3 webcam accese Con nient'altro sopra o sotto È un po' brutto